Gli spagnoli al voto ancora una volta probabilmente il 26 giugno dopo un secondo e infruttuoso giro di consultazioni con i leader dei principali partiti il re di Spagna prende atto dell'impossibilità di formare un governo non esiste un candidato che ebbe il sostegno necessario per avere la fiducia in Parlamento così il sovrano che accelera verso il voto perché in effetti di ufficiale ancora non c'è niente se non il fatto che il Parlamento uscito dalle elezioni del 20 dicembre ha sbriciolato il bipartitismo su cui la Spagna si reggeva fino a questo momento a insidiare l'alternanza tra popolari e socialisti sono stati nuovi partiti Podemos, una sorta di Sirisa alla Spagnola e Ciudadanos che radicato inizialmente in Catalogna si è poi esteso in tutto il paese il leader dei popolari nonché premier uscente Rajoy il cui partito è stato il più votato non era neppure candidato premier il re ha comunque incaricato il socialista Pedro Sanchez il cui partito è arrivato in seconda posizione Sanchez non è riuscito a mettere insieme una maggioranza Popolari e Podemos gli hanno negato la fiducia per due volte i soli voti di Ciudadanos e di Albert Rivera non gli sono bastati il programma firmato da Pessoa e Ciudadanos non ha convinto Podemos che dando il proprio sostegno avrebbe permesso l'avvio della legislatura se il Parlamento piange gli spagnoli tutti non si rallegrano di una situazione di stallo che non aiuta il paese che esce dalla peggior crisi attraversata dalla Spagna dal 1975 tutto si attendevano tranne nuove elezioni avrei preferito un accordo ma se non riescono a raggiungerlo dovremmo tornare a votare è terribile dover aspettare mesi per indire nuove elezioni le conseguenze della impasse politica possono essere imprevedibili i cittadini hanno piena ragione di essere preoccupati e esasperati da questa situazione hanno fatto la loro parte, hanno votato, ciò che non ha funzionato e il resto è un grande fallimento dei partiti e del sistema vedremo come reagirà l'elettorato penso che andrà meno gente a votare il timore è che dalle prossime elezioni esca un Parlamento la cui composizione sia simile a quella attuale cosa che di fatto ha portato allo stallo politico